Questo è lo spazio colore CE1931, percettualmente non uniforme, un po' obsoleto, ma decisamente molto famoso e associato soltanto a due dimensioni. In realtà tutti gli spazi colore sono tridimensionali e il CE1931 non fa eccezione. Questo è il software ColorSpace di Light Illusion che permette la visione tridimensionale dello spazio colore e dei punti di misura. L'asse Z è ortogonale ad ascisse e ordinate e rappresenta in questo caso la luminanza. Stiamo osservando lo spazio colore sRGB. Il punto più alto è il bianco che possiamo usare come riferimento al 100%. Le tre componenti primarie RGB valgono rispettivamente il 21,3% di rosso, il 71,5% di verde e il 7,2% di blu. Qui vediamo anche le componenti secondarie date dalla somma di quelle primarie. Il giallo vale il 92,8%, il ciano che vale il 78,7% e infine il magenta che vale il 28,5%.